Accusate Renzi di non combattere la corruzione, perché? Ha avuto un'opportunità molto semplice, quella di approvare una risoluzione che abbiamo presentato oggi in Senato che chiedeva al Governo in sede europea di rappresentare un'immagine del Governo stesso del Paese pulita, ordinata, lontana dalla corruzione che è tutto il contrario di quello che sta avvenendo in queste ore. Questa risoluzione molto semplice, Scarna, è stata invece bociata dai voti di PD, Nuovo Centrodestra, con anche l'assurda astensione del Movimento 5 Stelle. Tutto ciò ci dice che c'è molta ipocrisia in questa faccenda, perché c'è un binario a doppia velocità per il Governo a seconda che si tratti di alleati o piuttosto che si tratti di persone da colpire. E anche da parte di 5 Stelle, che tanto si lavano la bocca sulla corruzione e l'anticorruzione, in questo caso si tratta di dare una direttiva semplice e precisa al Governo, si sono astenuti.